Ciao a tutti, come riconoscere le tattiche dei manipolatori e dei narcisisti? Allora, dobbiamo tenere presente che non tutti i manipolatori sono anche narcisisti, ma tutti i narcisisti e le narcisiste sono manipolatori e utilizzano delle tattiche. Allora, intanto qual è la discriminante tra manipolatore e narcisista? Beh, che il manipolatore ha la capacità, in casi direi abbastanza rari, ma ha la possibilità di innamorarsi, di coinvolgersi emotivamente, ha la capacità di vivere delle emozioni. Il narcisista non ha questa capacità, però detto questa è la differenza fondamentale, quindi come dire, il manipolatore è un livello un po' più basso, il manipolatore non narcisista del narcisista, però hanno tutti comunque questa caratteristica di manipolare. Manipolare significa cercare di mistificare la realtà, cercare di ricattare emotivamente la persona, cercare tra volte anche di ricattare coercitivamente, diciamo così per esempio in manipolazione, utilizzando delle tattiche. Quali sono le tattiche che utilizza il narcisista e che utilizza il manipolatore? Beh, allora, intanto la tattica principale, l'obiettivo è quello di condizionare la persona, cioè rendere una persona una sorta di soldatino, una sorta di marionetta, in cui il manipolatore o il narcisista è un po', diciamo, colui che è il burattinaio. Ecco, è il burattinaio, il narcisista e il manipolatore vuole ricoprire il ruolo di burattinaio. Questo, e come fa a fare questo? Beh, è mistificando la realtà, perché il narcisista e il manipolatore mistificano la realtà, cioè ti fanno credere una realtà diversa, cercano di farti credere una realtà diversa, quindi questo è importante, renderti conto che intanto, nel momento in cui una persona si propone meglio degli altri, dice io sono il migliore, io sono una persona adatta a te, tu non potrai vivere senza di me, o talvolta al contrario, io non potrò vivere senza di te, io sono una persona giusta, sono una persona speciale, tutti gli altri non sono nulla, io sono il migliore, io sono la migliore, tu non hai idea di quante persone mi vogliono, mi desiderano, ma io ho scelto te. Ecco, quindi questa tattica è una tattica tipica del manipolatore, quindi andare a mistificare la realtà. E poi un'altra tattica che utilizzano i manipolatori, che utilizzano i narcisisti, quella del gaslighting, cioè farti credere che tu sbagli, che le tue idee sono sbagliate, che se non ti allinea le sue idee sei fuori dal mondo. E per fare questo cercano di, ti dicono una cosa e poi ti dicono che volevano dirne un'altra, che sei tu che hai capito male quella cosa, è la tattica e quella del doppio legame, e quindi qualunque cosa fai, a meno che non fai la cosa che vogliono loro, farai la cosa sbagliata. E la cosa strana, la mistificazione della realtà, è che questa cosa sbagliata che tu andrai a fare, ti porterà dei danni, e tu non te ne rendi neanche conto che ti porta dei danni, meno male che ci sono loro nella tua vita, che riescono a salvarti da questi danni, che altrimenti tu andrai a procurarti, seguendo indicazioni proprie, ragionando con la tua testa, e non dando retta a quello che dice il manipolatore o il narcisista. Questa è la tattica, la tattica quindi è proprio quella di mistificare la realtà, di manipolare la realtà, di farti percepire una realtà diversa. È ovvio che per fare questo devono prima produrre coinvolgimento, perché riescono a mistificare la realtà nel momento in cui tu, a, non te ne rendi conto, perché già se te ne rendi conto riesci a distaccarti, b, soprattutto se non ti rendi conto che loro ti stanno manipolando, che stanno manipolando la realtà, se hanno potenziale di seduzione nei tuoi confronti, se hanno potenziale di coinvolgimento nei tuoi confronti. E per fare questo, per crearsi potenziale di coinvolgimento nei tuoi confronti, ad esempio il narcisista usa il love bombing, cioè il bombardamento d'amore, ti fanno vedere che sono proprio, pendono dalle tue labbra, che ti vogliono bene, che ti amano, insomma, ti danno, ti danno e poi piano piano ti tolgono, però perché si rendono anche conto che bisogna dare, togliere, insomma, sono seduttori istintili, naturali, insomma, quindi queste sono le tattiche che utilizzano, quindi, ma basta scoprirli. Ci sono due le modalità per non finire nella rete, per non finire in queste sabbie mobili, dalle quali poi è veramente duro venirne fuori. Le due tattiche sono riconoscere il love bombing, riconoscere la manipolazione, riconoscere il gaslighting, quindi avere, mantenere alta la reattività, mantenere alta la tensione, evitare di coinvolgersi, cioè, quando conosci una persona nuova, non essere subito, perché se tu sei bisognoso, o bisognose, o vorrei mendicare affetto in giro, e ovvio ti coinvolgerai su chiunque, se il tuo bisogno di affetto è talmente forte, andrei a mendicare affetto, per cui diventi un codipendente, purtroppo, le vittime predestinate, altre sono i codipendenti, ma altrimenti, o comunque cerca di trovare autostima, amore in te stessa, amore in te stesso, questo è l'avvero antidoto, anti-manipolatore, anti-narcisista, e poi ti renditi conto della tattica, e mandali a stendere, questa è la cosa migliore, che devi fare, chiudi, 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 canali comunicativi, chiudi, chiudi, e quindi in questo modo riuscirai a ottenere, diciamo, di salvaguardarti, di salvaguardare la tua vita, insomma, di essere una persona che forse riesce a venire fuori da situazioni, che altrimenti sarebbero nefaste, sarebbero situazioni di sofferenza, da cui invece è importante riuscire a venirne fuori. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti quindi anche alla pagina Instagram, e seguimi sul canale, iscriviti al canale, attivando la campanella, perché se attiverai la campanella, avrai la possibilità di ricevere le notifiche delle live, partecipare alle live in diretta, conoscere persone interessanti, e potrai fare domande, ricevere risposte, divertirti, insomma. Bene, ti do appuntamento al prossimo video, ciao!